ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale oggi video perché mi è arrivato l'ordine finalmente che ho fatto sul sito beauty revolution ci è voluto un sacco, è stata veramente un'avventura questo pacco perché a un certo punto non si sapeva più dove cavolo era andata a finire, io l'avevo fatto l'ordine il 21 aprile e non si sapeva che cavolo di fine aveva fatto questo pacco, abbiamo dovuto insieme alla mia amica fortuna che lei è una grande in queste cose, veramente mi ha aiutato tantissimo, alla fine abbiamo chiamato il servizio clienti siamo riuscite a sbloccare questo pacco che inserisato stava fermo e è arrivato finalmente, sono troppo felice e quindi ve lo faccio vedere subito e sul sito revolution beauty, no beauty revolution scusate c'era appunto la possibilità di non pagare le spese di spedizione facendo un ordine di 45 euro e quindi ho speso circa 46 qualcosa e ho preso questi che sono di una collezione di rossettini nude dei matt nude, appunto ci sono 5 lipstick che sono da, vi dico subito 5 rossettini che sono da 3,2 grammi e uno lo indosso oggi e devo dire che hanno una durata pazzesca anche ieri quando mi è arrivato il pacco ho fatto la prova qua sul braccio, mi sono struccata, ho lavato ma ancora si vede l'alone quindi hanno una buonissima tenuta direi queste sono le colorazioni che ci sono all'interno, comunque adesso ve le faccio vedere vedrete anche le swatch sul braccio che ho fatto e quindi questi sono della linea revolution pro, questo è il pack del prodotto e è tutto nero, ha il tappo più opaco rispetto al sotto, penso che sia dovuto appunto perché sono la linea matt con scritto revolution pro qua e hanno la trasparenza sotto che ci consente appunto di vedere il colore questo è il colore che porto che è il protect è davvero molto bello, poi come ho detto vi faccio vedere, dopo vedrete anche gli swatch poi c'è quest'altro che invece è truth sono uno più bello dell'altro, hanno un'ottima pigmentazione e sulle labbra sono anche molto confortevoli quindi mi sono piaciuti davvero tanto, amo questa linea veramente questo che è Rav, il colore troppo bello veramente questo che invece si chiama Naked voi sapete che io amo i nude, quindi non mi sono fatta scappare questo piccolo set e questo stava a 7,99 euro, sembra che già ve l'ho detto e poi l'ultimo che è Real che è stupendo anche questo, sono uno più bello dell'altro veramente complimenti alla revolution pro per questa linea che sono davvero ottimi poi ho preso il fondotinta che immaginavo fosse un po' più grande in realtà è un piccolino, vi faccio vedere vicino a quello di Fenty Beauty questa è la differenza però non ho detto magari che bastano poche gocce per chi ha il contagocce e questo è appunto il foundation drops è F6 vedete e ancora non l'ho provato, semmai lo testeremo insieme in qualche video e questo io se volete prenderlo vi consiglio di leggere aprire bene la scheda perché ogni F1, F2, F3 c'è scritto per il sottotono, per quale sottotono è indicato questo era appunto per il sottotono giallo e quindi dovrebbe essere perfetto per il mio colore sicuramente poi lo proveremo insieme o se volete voi vi faccio la recensione appunto su questo fondotinta fatemelo sapere sotto nei commenti e questo pure sarà sempre 7,99 euro se non sbaglio poi ho voluto prendere 3 palette poi per chi mi segue su Instagram le ho già viste le foto, le storie le ho messo ma sono bellissime questa l'ho utilizzata appunto per il make up di oggi è bellissima questa se non sbaglio è proprio l'imitazione della palette di Huda Beauty e questa si chiama Revelation ma i colori sono pazzeschi super inventati veramente il pack delle palette è molto semplice proprio ma sti cavoli penso pure che sia meglio perché tanto a noi quello che interessa sono i colori e i colori sono davvero meravigliosi e quindi è in plastica rigida proprio niente di che ma vi assicuro che i pigmenti dentro all'interno delle palette sono davvero fantastici adesso vi faccio vedete io oggi ho utilizzato sia questo 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 qui ho usato questo per sfumare e sulla palpebra mobile ho usato questo faccio qualche swatch giusto perché siccome sono tante palette poi non ho posto mamma mia guardate cosa sono bellissime troppo belli veramente pazzeschi ce le ho ancora sulle dita e queste costano 8,99 euro sul sito e ce li valgono tutte ragazze io adesso farò un altro ordine loro sono un po' lentini con la spedizione però ne vale la pena e l'unico problema ecco è che per esempio la mia amica Fortuna è arrivata una palette rotta perché loro non mandano con la scatola ma stanno avvolti con le la cosa con le bolle insomma quindi non è molto sicuro però il servizio clienti è molto efficiente quindi se c'è qualche problema comunque cercano di risolverlo risolverlo al meglio ma io vi assicuro che queste palette meritano davvero tanto sono pazzesche anche il nero che vedete io ho messo qui all'angolo esterno è super pigmentato hanno una buona cioè si sfumano facilmente i colori sono belli pieni già la prima passata cioè veramente veramente ottime queste palette adesso vi faccio le regiazze allora un'altra palette è questa qui che si chiama Trans Mishes Maker e ha dei colori pazzeschi veramente troppo belli ah questa non vi ho detto che sono in pratica 18 colori di cui 10 sono matt mentre gli altri sono appunto metallizzati con effetto shimmer però tutte la linea sopra sono matt poi qua ci sono altri 4 matt e gli altri sono tutti shimmer o comunque con effetto metallizzato è bellissima questa invece sono sempre 18 colori ma sono quasi tutti con effetto shimmer a parte 2 3 forse forse soltanto il nero questo marrone qua biscotto e questo qua gli altri sono tutti leggermente shimmer brillantinati perlati ma sono veramente uno più bello dell'altro poi la cosa che mi piace tantissimo di queste palette è che a differenza delle altre della make up revolution hanno i nomi scritti proprio sotto in maniera che solitamente quel fogliettino volante o te lo perdi non è che stai a là a vedere il nome invece così sai anche il nome del prodotto ma adesso vi voglio vedere qualche swatch è pazzesco ragazzi con questo ci farò dei make up meravigliosi già lo so o lo spero comunque però quello dipende da me non da lei perché lei ha una pigmentazione davvero pazzesca belli i colori mamma mia che meraviglia poi devo dire che si sfumano davvero molto molto bene e non sono neanche troppo polverosi cioè c'è di peggio in giro veramente quindi eccoli bellissima veramente cioè troppo bella questa la trovo davvero perfetta per l'estate con tutti questi colori intanto prendo la salvietta con tutti questi colori e sul viola al verde cioè poi io ho quasi tutte palette color nude o con i toni comunque del marrone nude e con colori così belli e particolari non ne avevo neanche una quindi non mi sono fatta scappare appunto quella possibilità di prendere questi anche perché costano poco ma meritano veramente tanto poi c'è l'ultima palette che ho ordinato che questa è sempre della linea revolution pro questa però è la trend mischief mischiefs matte che è uguale a quell'altra trend mischiefs maker questa e questa è matte perché sono tutti tutti matte in questa palette è bellissima questa l'adoro proprio e questa è estate pura cioè per me questa è estate pura perché ha la prima fila appunto dove c'è il bianco il beige il giallo questo arancione bellissimo questo rosso chiaro particolare il verdino chiaro poi ha questi toni di rosa il viola e celeste con questo verde bellissimo un biscotto che questo è perfetto per le sfumature questi altri toni di rosa e viola e poi ha questo borgogna scuro è un viola scurissimo ma tutti matte quindi sono perfetti anche per andare a correggere appunto la zona dell'occhio troppo troppo bella vediamo qualche swatch che belli ragazzi vediamo il verdino madonna wow troppo troppo belle e eccole eccole le palette bellissime costano poco ma hanno davvero una pigmentazione pazzesca ce ne sono davvero tantissime tipi tantissime versioni sul loro sito una più bella dell'altra infatti comunque è stato difficile scegliere quale prendere perché le avrei prese tutte se fosse stato per me e veramente meritano tanto cioè io oggi l'ho usata per la prima volta appunto per il trucco che indosso oggi le amo la follia veramente se volete poi magari faremo anche qualche tutorial poi la cosa buona non so per quanto tempo regalavano questa con una spesa di 30 euro e questa penso che sia per un anniversario loro non dice per cosa penso che sono arrivate un tot di iscrizioni non so dove quindi hanno fatto questa palette appunto revolution con qui c'è il numero appunto sopra degli iscritti che hanno avuto da qualche parte si apre ha lo specchio questa la plastichina di protezione e questi sono i colori ma sono veramente bellissime oggi per curiosità ho voluto sono molto effetto cremoso questi no vabbè ragazze questo è da avere non so quanto costa se forse vi affrettate sul sito la potete avere anche voi e il regalo perché mamma mia ragazze tiè guardate questi illuminanti che cos'è hanno una pigmentazione pazzesca bellissima sono otto ombretti ma sono abbastanza grandi per essere otto ombretti e sono davvero super pigmentati cioè pazzeschi veramente quindi anche questo è un ottimo regalo grazie mille a revolution beauty adoro anche questa e quindi niente questi erano i miei ordini fatti appunto su revolution beauty adesso per la festa della mamma ho chiesto di fare un ordine anche lì e quando mi arriva spero presto questa volta lo vedrete anche quello io spero di cuore che vi siano piaciuti i prodottini che ho preso magari vi sia stato d'aiuto se volete avevate intenzione di comprare qualcosa ma non sapevate com'era il prodotto di esservi stata d'aiuto per questo io me ne sono innamorata penso che sono finita perché adesso voglio acquistare sempre a loro troppo buoni prodotti veramente ottimi e niente come al solito vi ricordo se vi è piaciuto il mio video mettete un bel like iscrivetevi cliccando il tasto iscriviti che trovate sotto nel video per aiutarmi sia a crescere e rimanere aggiornati e attivate anche la campanella perché non pagate niente è utile per avere le altre notifiche quando uscirà un mio nuovo video per rimanere sempre aggiornati sulle mie uscite presso tanti make up tutorial con queste meravigliose palette io come al solito vi ringrazio vi mando un bacione grande e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao